Salve, buonasera, vi voglio presentare la Clock 23 quarta generazione calibro 40 Smith Weston e adesso andiamo a vedere lo smontaggio della Clock molto semplicemente allora ricordiamo sempre la prima fase, togliere il caricatore vedere se nella camera c'è il proiettile, vuoto, ok adesso premiamo il cane poi tramite queste due levette azioniamo una leggera pressione e mandiamo indietro il carello automaticamente il carello si sfila poi adesso andiamo a togliere la molla e l'otturatore e in 10 secondi la Clock è smontata il montaggio è attrettamente più semplice rimettiamo l'otturatore la molla lo rimettiamo sul fusto ricordiamo che il fusto è in polimero la nostra Glock è pronta grazie a tutti grazie a tutti